Quella che ho in mano è una scatola, più precisamente una scatola di medicinali da 12 compresse, ancora più precisamente una scatola illustrata di medicinali da 12 compresse. Questa è l'ultima fatica di Alessandro Baronciani, autore già affermato che torna all'autoproduzione con questo fumetto in scatola. Quello che stupisce subito è la cura dei dettagli che ha avuto Baronciani in questo ultimo fumetto, curatissimo anche molto di più di quanto potrebbe essere curato con una casa editrice dietro probabilmente. La prima cosa che si vede aprendo la scatola è un foglietto delle illustrazioni dove ci illustra come prendere il fumetto e poi troviamo tanti mini fumettini che sono simbolicamente le compresse. Di cosa parla Mono Cherostina? Parla di una ragazza e del suo onicorno. È un racconto onirico, è un racconto dove non si distingue la realtà dal sogno che si può leggere in più modi. Non c'è un ordine di lettura preciso come non c'è un ordine preciso per prendere un medicinale in un certo senso. Sono tutte storie che sembrano autoconclusive e staccate l'una dall'altra. Noi sappiamo solo che questa ragazza sta andando da uno psicologo che le ha somministrato queste pillole da prendere e praticamente la lettura è noi che scopriamo insieme a lei cosa le è successo e cosa non le è successo, senza troppi spoiler.